Salve a tutti, benvenuti al settimo episodio di Scriviamo, il nostro format sulla scrittura creativa che ha come fine ultimo quello di scrivere un'opera letteraria che sia il più possibile condivisa con voi che di volta in volta guardate e commentate i nostri video, sia quello di dare un po' un ripasso generale sulle regole fondamentali della scrittura creativa che io personalmente reputo importanti se qualcuno si vuole approcciare alla scrittura naturalmente ci tengo a sottolineare ancora una volta che questo non è un corso di scrittura creativa sono solo io che ricordo e rinfresco un po' di rieminiscenze da corsi che ho seguito nel corso degli anni che ci servono, questo rinfrescare la memoria, ci serve come motore spinta per la fase di scrittura dell'opera appunto condivisa che sarà parte della seconda fase di questo ciclo di incontri prima di fare i due recap che di solito aprono le puntate di Scriviamo però ci tengo a sottolineare una cosa purtroppo è successo quello che sul web succede quasi sempre e cioè sono cominciati ad arrivare dei commenti poco felici sotto la prima puntata, sotto il primo episodio di Scriviamo una persona che poi tra l'altro cancellava i suoi stessi commenti accusando me poi di cancellare i miei e i suoi non ho capito per quale motivo avrei dovuto cancellare i commenti non avrei risposto, non avrei perso tempo a rispondere a quei commenti se poi avevo intenzione di cancellarli ma tant'è, purtroppo viva Dio, non la pensiamo tutti alla stessa maniera il fatto però di venire a commentare con un tono saccente, molto arrogante da conoscitore della verità assoluta sulla letteratura mondiale questo insomma mi sta un tantino, non mi sta bene perché non è giusto, perché non è che dobbiamo vederla tutti quanti alla stessa maniera bisogna rispettare le idee di tutti come ho detto prima, viva Dio, ne abbiamo di tutti i colori di idee nel mondo quindi insomma dare per scontato che solo perché uno pensi che i corsi di scrittura creativa possano servire a qualcosa diventa un tecnico della scrittura invece che uno scrittore una differenza che secondo me non esiste perché un tecnico della scrittura rispetto a uno scrittore qual è la differenza? cosa ci sarebbe di denigratorio nel chiamare qualcuno con l'epiteto tecnico della scrittura? ma tant'è, ripeto purtroppo è successo ci tengo a sottolineare questo accaduto perché in primis mi piacerebbe che non succedesse sempre fortunatamente sotto i vari profili social di Libri per Passione questo tipo di commenti, questo tipo di argomentazioni che poi non sono argomentazioni non c'è quasi mai fortunatamente la nostra community seppur piccola ma fino ad ora almeno riesce a mantenere un livello di dialogo veramente cortese, cordiale e sono felice di questo purtroppo ecco c'è stato questo primo episodio abbastanza forte anche e ci tengo a sottolinearlo perché non tollererò ulteriori prese di posizione di questo modo di questo tipo si può essere in disaccordo su tante cose si può vederle in maniera diversa e si può anche commentare con toni forti ma chiedo scusa ma arrivare all'insulto fine a se stesso e alla mera presa di posizione diffidate da questa gente qui ragazzi nessuno vuole insegnare niente nessuno quindi diffidate no io sto esprimendo una mia opinione sul mio canale e quindi nessuno deve diffidare di me semplicemente se siamo in accordo siamo in accordo se siamo in disaccordo va benissimo lo stesso anzi questi video vogliono aprire il dibattito però vogliono aprire appunto il dibattito non la guerra l'insulto eccetera eccetera fatta questa precisazione iniziale che avrei non avrei non voluto fare non avrei voluto fare chiedo scusa passiamo ai due recap soliti come sempre io vi ricordo un po' quelli che sono gli step della settimana di libri per passione con il lunedì appunto con scriviamo martedì con il solito post riguardante racconti per passione il nostro concorso per racconti a tema libero il mercoledì torna book talk il giovedì c'è la nuova parte dell'audiolibro del signore degli anelli e a proposito di audiolibri vi spoilerò in anteprima che tra un po' di tempo ci saranno delle novità il venerdì il nostro solito post sui commenti sui consigli letterari e poi il weekend in cui posto una domanda inerente il mondo della letteratura sotto l'hashtag di la tua e poi ce lo prendiamo libero per shopping questo è tutto per quanto riguarda la settimana di libri per passione dopodiché facciamo un piccolo recap invece delle puntate precedenti abbiamo parlato dei corsi di scrittura creativa c'è chi è contrario c'è chi è in accordo abbiamo parlato della forma mentis degli obiettivi da raggiungere abbiamo parlato un po' di tutto delle parti delle componenti di una storia del tempo del senso d'attesa degli atti e oggi parliamo di due cose molto importanti all'interno della costruzione di una storia una sono gli archetipi e l'altra il conflitto allora partiamo dagli archetipi cosa sono gli archetipi allora definire archetipo è una cosa talmente vasta concetto talmente vasto vario all'interno di uno scritto e comunque dell'ambito della scrittura creativa che sarebbe riduttivo definirlo in una singola maniera vi dico solo che l'archetipo è un costrutto che è presente nel libro nel nostro racconto romanzo nella nostra opera che può essere umano o può essere non umano nel senso che può essere rappresentato anche da oggetti sensazioni e quant'altro gli archetipi quali sono quelli che più frequentemente si trovano all'interno di un'opera letteraria in primis c'è l'eroe che è il nostro protagonista è l'archetipo principale diciamo quello che più è inerente alla nostra storia ed è importantissimo naturalmente senza di lui non ci sarebbe la storia in sé poi ci sono i mentori che sono personaggi che aiutano l'eroe non deve essere per forza un personaggio positivo in caso di aiuto positivo all'eroe si parla appunto di mentore se invece un aiuto negativo all'eroe si parla di mentore dell'ombra poi c'è il messaggero che può essere un personaggio o appunto qualsiasi cosa che fa partire la storia quindi può essere un personaggio all'interno della trama che porta il nostro eroe a contatto con il conflitto che poi vedremo dopo ma può anche essere qualsiasi cosa umana o materiale che appunto porta il nostro eroe a contatto con il motore della storia con il conflitto poi c'è il guardiano della soglia che per definizione testa la volontà e il coraggio dell'eroe la sua voglia di mettersi alla prova non va confuso con un nemico è una cosa a parte e qualcuno che come si dice dalla mia parte sfruculiea ecco va a pungolare il nostro eroe di modo da fargli capire prima di tutto a se stesso ma poi anche naturalmente a noi lettori se è in grado di affrontare le varie peripezie che nello scritto si troverà di fronte poi ci sono i mutaforma che sono coloro che fanno porre delle domande all'eroe per capire cose su se stesso si chiamano appunto mutaforma perché possono essere di qualsiasi tipo non ce n'è uno in particolare o naturalmente possono anche questi avere una forma umana o materiale sentimentale o quant'altro poi c'è un'ombra che è un nemico all'altezza dell'eroe è importante che il nemico sia all'altezza dell'eroe anzi forse sarebbe anche meglio che fosse qualcosa di più di più spietato cattivo che sembri più dell'eroe deve andare a toccare l'ombra nell'animo del nostro eroe quindi deve essere come fosse un un'azione uguale contraria un po' il nostro si potrebbe anche chiamare anti-eroe quindi un contraltare che deve anche questo andare a far porre domande al nostro eroe come abbiamo detto di muta forma ma in questo caso deve andare nel profondo lì nell'intimo dove si nascondono i dubbi le paure più grandi del nostro eroe che riguardano naturalmente il motore della storia perché eroe e anti-eroe o ombra si devono affrontare per risolvere il conflitto centrale all'interno della storia deve essere molto approfondito come personaggio personaggio o appunto anche lui anche l'ombra può essere sì un personaggio ma può essere anche qualcosa di materiale o ancora meglio forse qualcosa di psichico e poi c'è l'imbroglione che è la spalla comica come ho detto prima questi sono i principali diciamo quelli che si trovano più spesso ma non è detto che all'interno di una storia ci debbano essere tutti questo è tutto per quanto riguarda gli archetipi sul loro utilizzo naturalmente come tutto quello che abbiamo detto fin qui c'è piena libertà e naturalmente tutto sta al nostro genio e al nostro modo di utilizzarli passiamo invece al conflitto come abbiamo detto il conflitto il conflitto è ciò che muove la storia se io dovessi chiedermi la mia storia descrivila in chiedo scusa la tua storia descrivila in una frase quella frase è il conflitto ecco facciamo un po' di esempi Moby Dick un uomo cerca una banana per ucciderla quello è il motore della storia Akab è all'affannosa ricerca poi c'è tutta la questione psicologica sì ma quelli sono tutti archetipi secondari sono mutaforma ecco per esempio in quel caso ma il perno centrale il motore della storia in questo caso il conflitto è il fatto che lui la cerchi per ucciderla per esempio in Pinocchio un burattino fa di tutto per diventare un bambino vero descrivere una storia in una frase se si riesce si conosce il conflitto di quella particolare storia l'Iliade l'esercito degli Achei vince contro Troia perché il suo eroe Achille è in contrasto col suo generale Agamennone anche se qui non sono molto d'accordo vabbè più che altro infatti no perché ho letto male io l'esercito degli Achei non vince contro Troia perché il suo eroe Achille è in contrasto col generale Agamennone anche se poi qui arriva Ulisse bla 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 la storia quindi ruota attorno a questo conflitto è centrale e diventa quindi il motore di tutto ogni conflitto è legato a un singolo personaggio quindi una storia semplice come sarà per esempio quella che andremo a scrivere noi avrà un personaggio e un conflitto adesso collegati trame più fitte più complesse eccetera eccetera invece avranno più personaggi ognuno col suo conflitto detto ciò abbiamo concluso diciamo questa parte settima del nostro format scriviamo abbiamo visto gli archetipi abbiamo visto il conflitto io credo che ci siamo ci siamo veramente vicini alla fine del nostro percorso diciamo di risveglio muscolare chiamiamolo così di riscaldamento dopodiché cominceremo la parte quella più divertente quella in cui cominceremo a strutturare la nostra storia cosa faremo nella prossima puntata cosa faremo nella prossima puntata onestamente non ci ho ancora pensato perché ricordo che ne volevo fare un'altra ancora propedeutica ma al momento non mi viene l'argomento mi verrà naturalmente comunque sappiate che la prima il primo episodio invece in cui parleremo del racconto che dobbiamo scrivere cominceremo a farlo cominceremo a a trattarlo cercando un mondo in cui ambientare la nostra storia un'altra 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 un'altra